Benvenuti in questo nuovo video di tutte le news sul gossip. La tormentata storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente al capolinea. Ma benché la rottura tra due dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello VIP sia avvenuta ormai più di due mesi fa, le polemiche continuano a trascinarsi. Tra accuse e recriminazioni reciproche, l'influencer campana e lo speaker radiofonico si sono resi protagonisti negli ultimi giorni di numerose schermaglie a colpi di tweet e stories. Edoardo aveva commentato un vecchio tweet di Sonia Bruganelli, opinionista dell'ultima edizione del GF VIP7, la quale aveva postato una frase sul rispetto post-relazione. Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente. Grande, grandissima verità, aveva commentato il volto di forum. Poco dopo era arrivata la reazione di Antonella. Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante. E visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio. Poi, l'influencer campana aveva aggiunto, si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato, per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l'ho chiamato per andare a Filicudi, e mi ha detto di no e che non voleva stare con me. E poi parla di post-relazione? Buona sì, ma fessa no. A mettere un ulteriore punto definitivo alla relazione tra i donnalisi ci ha pensato Matteo Diamante con una sorta di comunicato su Twitter. Quando è troppo è troppo, perciò mi libero. Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho rimato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io cavolate non ne dico, al costo di farmi odiare, come vedete. Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila, non c'è margine di ritorno. Non vogliono nemmeno essere più accostati uno all'altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo. I fan dell'ormai ex coppia si sono scagliati contro l'ex di Nikita Pelazin, accusandolo di essersi intromesso in questioni che non gli competono. Ma, stando ai mormorii sui social, pare che Edoardo abbia avallato in toto la scelta di Matteo di esporsi sulla questione. Nel frattempo, nelle ultime ore un dettaglio non è passato inosservato. Stando ad alcune segnalazioni arrivate ad Amedeo Venza e Dejanira Marzano, pare che Donna Maria abbia rimosso dal suo profilo Instagram alcune delle foto di lui e Antonella. La prima risalente al loro sesto anniversario, e la seconda ad un servizio fotografico per le vie di Milano. Tra l'altro, sono le uniche due immagini eliminate, visto che sul feed dello speaker radiofonico ne sono presenti altre in cui è insieme alla sua ex fidanzata. Alcuni utenti ritengono che l'influencer campana abbia tolto l'opzione e automaticamente si sono cancellate le foto sul profilo di Edoardo. Ma, in realtà, le cose non stanno così. Sul suo canale broadcast, la stessa Fiordelisi ha infatti detto di non aver rimosso nulla. Grazie per aver seguito questo video news sul gossip. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.